La SIA è resa nota alla classifica dei 10 concerti più frequentati nel secondo semestre 2019. La musica italiana all'inizio della scorsa estate è avuto praticamente in due soli protagonisti, Ed Sheeran e Vasco Rossi. Al cantottore di Halifax va l'onore di essere stato protagonista dei due eventi di musica dal vivo più frequentati in assoluto, quelli tenuti all'Arvisano a Rema di Firenze e allo Stadio Olimpico di Roma, rispettivamente gli scorsi 14 e 16 giugno, che hanno fatto segnare complessivamente un totale di 820 mila biglietti staccati a botteghi. Farò impressione tuttavia il posizionamento del rocker di Zocca nella chart dei 10 concerti più frequentati nel secondo trimestre del 2019. Sei delle dieci posizioni della chart infatti sono tutte occupate da Vasco Rossi. La porzione di classifica compresa tra il terzo e il settimo post è completamente occupata da Vasco Rossi, più precisamente con le sei date che l'artista emiliano ha ottenuto tra gli scorsi 1 e 12 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Con un totale di poco meno di 340 mila biglietti staccati a botteghi, la Vasco da solo ha venduto più di tutti i suoi concorrenti presenti nella top ten della classifica. Concorrenti che a conti fatti sono solamente due. Di uno e di Sheeran abbiamo già parlato, che è un trattore britannico, il presidente Oteca in prima e seconda posizione, anche al monoposto, con la sua data dello scorso 19 giugno sempre a San Siro, per la quale sono stati staccati 55.791 biglietti. In ultima posizione fa Capolino un altro attrice italiano, Liga Bue, che sempre al Merza di Milano, lo scorso 28 giugno, ha richiamato davanti al suo palco i 55.780 spettatori, per la più frequentata delle nove date del suo ultimo turno degli stadi. Grazie a tutti!